Bella a tutti ragazzi, sono Blackshadow2006 e ci troviamo in un nuovo video di Pokémon Verde Foglia. Praticamente, ho registrato già una precedente puntata dove praticamente ho battuto degli allenatori. Ho fatto pure Evolvere Charmander in Charmander, infatti. E ho registrato questa puntata e però per sbaglio l'ho eliminata perché tipo per sbaglio l'ho eliminata. Mi dispiace che vi siete persi l'evoluzione. Ok, vai il tono a shock. Usiamo un altro tono a shock. Ragazzi, comunque vi voglio dire una cosa. Ho pensato di aprire una nuova serie. Una nuova serie? Sempre sui Pokémon però è un gioco di Pokémon online. Praticamente la voglio aprire con un paio di persone. Poi scoprirete chi. Siamo ritornati a Plumbe Oakley. Comunque... Dobbiamo andare nella caverna. Che... Dalla caverna c'è un passaggio per andare nella prossima palestra. C'è quella di... Quella là di acqua... Come si chiama quella? Visti, visti. Ok... Ok... Um... Ma... Dari... Revelling... Dari... No, no. Sperdi... Di... 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 No... Di... 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 ole... Un attimo... Un attimo al... Market... E poi poi... do... Eccoci... Ritornati... Mi son comprato 10 Pokémon e tre Repellenti. Perché dentro alla caverna ci sta un Pokémon che mi interessa la sua evoluzione... andiamo qua dietro sto già ok vediamo che fine no non è quello che ci interessa fai chi è un fai artigli fai artigli efficace ah è super credevo che non era efficace vabbè ovvio che è efficace stagione debba eh vabbè non abbiamo il rimone abbiamo il nostro ficace ok vabbè l'abbiamo sciottata ecco qua ok sale a livello 18 c'è il nostro cernino se mitraglia voglio fare i miei ragazzi noi cerchiamo che è il rattato quindi non so se è rattato dobbiamo far allenare un po' ok cambiamo quanto riguarda prendiamo pikachu pikachu usa tolorshop credo sia verificazione ok in realtà un racta mi dispiacerebbe cosa lo cambiamo e scegliamo c'è il video di tipo così lo facciamo un po' prendere esperienza il nostro racta io ho il mio racta lo voglio far evolvere il racta non vi prendete per idiota vero l'atichetta è uno dei miei pokemon preferiti un po' idiota un po' da idiota vedere un'atichetta come pokemon preferito però però no no ma vediamo il mio racta quindi cambiamo e scegliamo il nostro pikachu con i soprannomi con i soprannomi io cioè quando incontrerò quello un signore che tipo da i soprannomi pokemon glieli darò c'era io non li ho dati quando li ho presi perchè non li ho presi 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 dai piccata su usa tu ne so il nostro muore vai ractata almeno un'azione ractata almeno un'azione dole no ...e avviene un colpo QD, ah no, non è possibile. Cambiamo con PG, PG e... Questa è la madonna, tutta l'un PG. Ah, ecco. Eppure PG è innamorato di questo. Ti prego, ti prego, non attacca lo stesso, ti prego. Ah. Ok. Uh, attacco rapido il muro. È un buro un po'. Però le prime armi... Ok. Ok. Voglio già prendere... ...un... ...prepellente. ... 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 una polde buona ok Manco a dire una parola Manco a dirla Comunque ragazzi L'episodio Abbiamo preso due pokémon Ci vediamo la prossima volta Che facciamo la seconda parte Nella caverna E poi Vi farò Che vado a fare online Insieme a queste tre persone Ciao